e adesso sono pronti il 7 e l'11 per dare il via al match eccoci, un telar dietro per Andrea Pato, liberato da Sedor, fare di rigore Pato, 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 Pato mette in mezzo class, Rino, Rino alta incredibile, alta incredibile non ha recuperato Favalli ragazzi attenzione Zenoni, non ha recuperato Favalli Zenoni, palla in mezzo, rischio la palla finisce fuori, abbiamo rischiato preghiamo Favalli fuori posizione la rimessa in gioco è Milan, Abate per Gattuso anzi il contrario, Gattuso per Abate dai Ignazio, metti la subito in mezzo dai Ignazio, una bella palla di Ignazio e Viviano preoccupato, mette i pugni la giusta sul suo petto Beppe, poi la dà indietro per Storari rischio, 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 siamo andati a rischiare siamo andati a rischiare, Beppe chiede scusa a Storari va aiutato Andrea, vediamo se ne viene fuori dai Andrea, dai Andrea che gestisce il pallone la palla spizzata per Favalli, il colpo di tacco Andrea, splendido, Pato deviazione in calcio d'angolo di Britos ormai pronto a deviarla in rete, colpo sicuro Patigno, Britos gliela tolta dalla fronte, e c'è calcio d'angolo per noi ma altra grande occasione Milan Beppe prova a vedere che cosa può succedere la palla di Beppe, molto buona l'ultimo tocco è Bologna l'ultimo tocco è Bologna, e c'è calcio d'angolo per noi, vediamo Clarence vediamo Clarence, palla spizzata Calazze, la deviazione Pirlo, sono in difficoltà, tira Andrea tira Andrea, sono in difficoltà, deviazione palla fuori, calcio d'angolo ancora Bologna alle corde, dai ragazzi c'è Abate che chiede palla Pirlo punta Guana e lo supera ancora Andrea, vediamo Andrea vediamo Andrea dentro, per Pato Pato di testa, di testa Clas anticipato Clas anticipato Clas, Pato gliela ha messa bene è andato troppo troppo largo, troppo largo Clas doveva tagliarmela a fette quell'area di rigore Abate, Abate, Abate Abate, palla in profondità Sedorf, Sedorf, Sedorf non tira Sedorf, non tira non tira Sedorf, in cespica su quella palla 0-0 dunque, grandi occasioni parte Andrea e sfiora, e sfiora la palla l'incrocio dei pali Ambroleone scavalla a centrocampo Ambroleone ecco la palla dentro per Pato vediamo se la palla persa di Valiani nasce qualcosa Pato, tiro, palo palo, clamoroso, palo il bagliore c'è stato ma la luce è finita sul palo la palla è loro, con Raggi Raggi, Jankulowski la ruba Pippo oh, alta, alta, incredibile c'è anche la deviazione di Viviano poddo per Jankulowski Jankulowski lunghissimo per Andrea vediamo se Andrea ci arriva, sì Andrea, Andrea, Andrea Andrea solo davanti a Viviano Andrea solo davanti a Viviano Pato anticipato, porta vuoto riparte il Milan, Ambroleone Ambroleone, Ambroleone scatta Ambroleone dentro per Pato la palla di Clarence Clarence ha fatto tutto il campo dai Clarence Clarence, Clarence punta veloce aree di rigore se la allunga, arriva sull'azio al partiere gol 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 di Clarence grande volata 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 Clarence 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi mette il piede Sandro Pirlo, dobbiamo rientrare dal fuorigioco Inzaghi riceve, Inzaghi posizione regolare Pippo no, incredibile Pippo, Pippo, Pippo Pippo, Pippo tiro palo il secondo incredibile mi fa male questa azione mi fa male questa azione Zenoni viene a giocare davanti a Seiancu davanti a Seiancu la palla messa in mezzo stacca di testa Calazze l'allontana ma la palla è scoperta Mingazzini il tiro Stolari enorme la parata di Marco enorme parata di Marco Ambrosini vuole l'aiuto degli altri giocatori davanti enorme parata di Marco la palla è del Bologna la palla è del Bologna ancora Valiani è finita 1 a 0 per noi 1 a 0 1 a 2